150 arresti, 58.000 persone e 26.000, veicoli controllati, 850 denunce presentate, così come 150 auto rubate e rinvenute restituite, repressione e prevenzione, le due parole chiave per l'azione sul territorio della questura di Barletta Andiatrani che questa mattina ha voluto tracciare un bilancio del 2022. Un controllo del territorio capillare, questo è stato uno dei nostri obiettivi oltre chiaramente ai risultati sotto il profilo investigativo che ci hanno permesso di conseguire risultati importanti e di dare risposte a quelli che sono stati i fatti criminosi più eclatanti e più importanti. A parlare è stato il questore Roberto Pellicone che ha rimarcato la particolare attenzione nei confronti del traffico e spaccio di stupefacenti, oltre all'attività di investigazione, all'aumento di persone arrestate o denunciate in flagranza di reato, in particolare la BAT resta ai primi posti d'Italia per i furti di autovetture, ma su questo la Polizia di Stato resta in prima linea al fianco dei cittadini. Proprio per questo abbiamo intensificato l'attività di controllo del territorio. Numerosi sono stati gli arresti anche in quest'ambito, gli arresti in tutto sono stati oltre 150, oltre 150 retrovetture rinvenute e restituiti a legittimi proprietari. È chiaro che tanto ancora si deve fare e per questo noi chiediamo il supporto dei cittadini che per noi è fondamentale. Cittadini che diventano la più importante sentinella del territorio e che cominciano a dare segnali incoraggianti di fiducia nell'approcciarsi alle forze di polizia. Spero che sia l'inizio di un cambiamento vero e proprio, di una vera e propria presa di coscienza da parte della gente, affinché comprenda che collaborare è fondamentale per noi ma anche per i cittadini stessi. Questura BAT che ha svolto un'intensa attività di prevenzione anche grazie al protocollo Zeus, alla stanza di ascolto riservato e protetto per le donne che subiscono violenza, intitolata la piccola Graziella Mansi, ma anche il progetto Scuole Sicure, il camper della polizia utilizzato nelle diverse piazze della BAT. Importante anche l'attività in materia di ordine pubblico con i grandi eventi sul territorio ma anche le costanti manifestazioni sportive. Resta però il nodo organici per cui il questore ha assicurato massima attenzione da parte del Ministero dell'Interno. A breve, a gennaio, arriveranno altri dieci agenti che andranno a incrementare il nostro organico. C'è grande attenzione da parte del Capo della Polizia e del Ministro dell'Interno per cercare di completare il prima possibile organico e consentirci di lavorare ancora con maggiore vigore e con maggiore presenza sul territorio. Stavane è stata poi l'occasione anche per presentare le due nuove Giulia, auto operative ammiraglie della Polizia di Stato, che da oggi saranno in servizio su tutto il territorio della BAT. Rappresentano il mezzo più potente che abbiamo nel nostro parco macchina ad oggi, 2.000 di cilindrata, 200 cavalli, trazione posteriore, eccetera. Sono tutte caratteristiche che chiaramente il Ministero ci dà per garantire anche una risposta nei confronti di problematiche criminali che, come sappiamo, affliggono la nostra provincia come i furti d'auto. Quindi chiaramente avendo queste nuove dotazioni, questi nuovi mezzi, noi crediamo di dare una risposta anche a coloro che utilizzano auto veloci, eccetera, per furti d'auto e tutte le problematiche note.